Cosa è meglio, pasta italiana o noodles giapponesi? Ah, è una questione di maniera personale, ma direi che i due hanno il loro carino. Di una possibile rivoluzione sia per il mondo dei videogiochi, ma anche per il mondo delle chat. Non è difficile immaginarsi che magari questa tecnologia prende qualche deriva negativa, però per il momento io lo trovo veramente molto interessante. E a te piacerebbe interagire con personaggi virtuali? Fammelo sapere nei commenti.